La scuola o le scuole nel freddo documento. Mettete le scuole nell'inputo con il piuttosto presso l'interno e l'edito presso l'edito presso l'edito. Scuola il pietro nel freddo fino a metterla la resistenza. Se necessario scuola la guida del pietro presso l'edito del pietro. L'edito presso l'edito automaticamente detecta la presenza del pietro nel freddo automatico. Selezza copia, presso ok. Se sei ok con le settimane, presso il botone nero per una copia nero o il botone color per una copia color. L'edito presso scannare le scuole o le scuole. Poi inizia a presso. Le instruzioni possono cambiare da modello a modello, ma sono simili. È possibile cambiare le settimane. Ok. Puoi scelere il numero di copie da 1 a 99. Usa l'arrobs up or down e scelere il numero di copie. Per confermare il numero, presso ok. Puoi scelere il layout. Ok. Ok. Then, con l'arrobs up or down, scelere il layout che bisogna. Confirma con ok. Presso arrobs down. Scelere il numero di documento. Ok. Ok. Choose A4, A5, and so on. Confirma con ok. Arrobs down. Documento orientazione. Ok. With error of down. Documento orientazione. Ok. With error of down. Select the quality. Standard or high. Ok. Confirma con ok. Arrobs down. Arrobs down. Density. Ok. Using the arrobs up or down, select the value you need. Press the back button. Press color or black button to start the print. Ok. 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 Grazie.